questo video faremo una challenge un po bizzarra la faremo con le mollette le applicheremo i punti del corpo le orecchie e nasi eccetera chi resterà di più vincerà special guest di questa puntata mia nipoteca di questa volta quindi partiamo con i video ok allora eccoci qua parto io con la mia molletta oricchie quindi prima poi cadere la molletta vai oricchio vediamo chi resta di più aspetta calma gallina messa porca seconda molletta piccola premissa le mollette alcune di più altre sono più lente quindi avendo le mischiate sono capite a casa può capire quella stretta che ti fa piangere e quella più leggera e possiamo togliere possiamo togliere al massimo di due mollette ogni ogni cinque minuti però procediamo a seconda molletta anzi facciamo ogni tre minuti e che cadere una molletta aspetta che le applica e poi tu ma si può almeno aggiustare e vai concediamolo anche se se vuoi diventare un po facile no ma ho preso la rosta se le togli fuori dai giochi allora dovendo sempre a cazzo ogni tre minuti possiamo dobbiamo chiedere una ora diciamo un naso mamma io già bevo un naso io oh my god ora ci saranno meglio prima così è peggio questo è meglio essere stato fortunato ma ancora tocca a me allora adesso qui sotto già mi chiede la sua mi mamma io ci saranno che se si a voi non c'è per me chi c'è a me chiede la mia chiara lei a mamma mia parola si si se lo perdi adesso mamma mia quella suona si insopportabile come va come va questa è insopportabile adesso la prossima ah 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 ma hai trezzo a minuto puoi togliere una non tolgo un cazzo anche io difendo puoi togliela non tolgo devo resistere e vincere adesso passiamo alle mani ma i pollici tipo pollice vai Caterina pollice con Caterina e con Lettas ok Dani poi procediamo con la stessa mano ah non c'entra vai come ti riesci a mettere se no si pulire i giochi poi procediamo sulla stessa mano ah l'osso, ci fa troppo male l'osso disqualifico disqualifico ma aspetta ma lo struzza ma io su pollice la devo mettere qua ecco qua questa cosa faccio male cane la devo mettere io ah che deve Caterina mamma mia ah questa qua mi fa male cane ma se c'è il naso ma io ora mi sento più il naso ma c'è una cosa infame ci stiamo praticamente autoflagellando ci stiamo uccidendo autosuffidamento mamma mia il naso mi sta uccidendo il germinato è pessimo 3 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 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 6 6 5 5 6 6 6 6 6 7 7 8 8 9 9 10 12 12 12 12 13 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 16 16 15 16 18 16 18 19 verso un indice danni a personaggi e le mani ho provato ai cittadini lo amputiamo dopo la votiamo non c'è problema ragazzo a terra bianco si si fanno 10.000 ai quali schiaffo dagli mamma mia adesso che non mi sta messi la miseria ho messo qua non va niente l'ultima la donna il naso però mi sta uccidendo si stacca la nesca allora se la ri se la chiudi facciamo un pari merito per tutti e tre ci vediamo queste molette ci stanno uccidendo no no e io te la testa cosa è sul cazzo del naso qua no no lo tolgo lo perdo ahhh perdo io perdo perdo no ma una la puoi dare ma che io guardalo ahhh ah no vada lì vada faccelù io l'ho deciso mio naso l'ho ucciso almeno a me si può aggiustare mio povero naso lo metto qua vedi e c'ho un nightmare oppure dai volvo non è merdo mamma mia ah è bianco è il mio naso ah ma tu ti hai messo no l'ho messo qua è vero che lo devi un po' sistemare per la cagare no? allora io lo sposto e grazie perché hai messo un po' dei 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 miei eh si tanto che sembri l'orso ahia pure questo tra poco per dare il pollice no mi prometto tagli il naso ahia il pollice amami ah 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 amami ma non ci passi tu si vedi mo io non ne ho tolto nessuna facendo l'orso tanto non è inroiale perché tanto sta sempre su una parte del corpo guardate Aspi Ay ah rrrr 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 allora guarda me lo prenderai io sai sai che adesso tu non ho pagato il naso perché tu rindi e parli ah ma mi sto vedendo pure il naso quasi segnato il dito si è deformato a quella ah 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 fantastico mi siamo ucciso sembrava niente perché io pensavo che fossero più leggere ma non andare questa mano dopo sento me la dobbiamo buttare però le mollette se ne cadono e a quando non provateci a casa che ci stiamo uccidendo no perchè poi mi butti delle bestemmie a me che l'ho fatto ecco qua guardate che ho gomissi che mollette allora vi arrendete? no io così riesco a resistere anche se sto per prendere io riesco a resistere anche se una cosa sta cedendo lasciate like a 40 like nuovo video così a 5.000 like daremo uno schiaffo a 40 like mi riempio di mollette no 40 è poco allora ci sono 5 140 e mi riempio di mollette tanto non ci arriviamo poi ci arriviamo se sei saltato questa mannaggia ora faccio una cosa voglio far notare questo dito guarda voi sediamo bianco guarda e non metterlo vai ah ah vado il naso i capelli ma fai i capelli ahahah io io i capelli ma lo posso staccarlo i capelli certo i capelli non fa male vado il naso io posso provare i capelli ah il naso no vedi che c'è ma anche i capelli no vedi che c'è ma anche i capelli aspetta non ho i capelli si deforma maria non si è deformato il naso e se mi stassi i capelli no però grazie ah 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 porca ora però dobbiamo stare dobbiamo stare almeno no due minuti fermi così con non ci doffio aggancio proprio a fuori fa un male cane così eh però mi devo togliere non togliere ma io direi che comunque possiamo chiudere dicendo che è un pari no ma come no no a chi le sostiene più anzi ora facciamo così facciamo così il dito maria il dito si è deformato questo vabbè dopo tutti i ah ok vabbè io molo i giochi no mi libero perchè si perchè da qua c'è la dita che stanno bianche ahah mi sto pensando di avere amore ahah allora adesso aspetta di nuovo qua togli praticamente senza un pediurso ah e noi chiamiamoci ahah allora dove sono messi i capelli ok allora adesso io me li tolgo ahahah dobbiamo metterci lei e qua allora fai così metti i tivorati dico a kate si mette qua perchè andate su sei passato in allora aspetti e questa e questa e questa ma adesso io ne passo una lata ma tocca lì ecco quanto Se l'avete addosso quello che c'avete? Si Ok, ora passo una e una così Dove fa più male? Le passa a casaccio Se è più dura, se è più morbida le passa a casaccio Pronti? Applicata? Si applicata Questa la chiamiamo challenge mollette Vai Dio Dio Se l'è Il naso No il naso Se non te lo metti sul naso belli Vabbè Ok, vai accetto Vai Ti vedete che l'ho Ah 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 ahahah ahahah io l'ho detto accetto la sfida pronti alla prossima moletta non l'ho fatto pronti vai ho fatto una moletta, ho fatto un giro a tra corsa vai dove cazzo ti pare? a 10.000 like e non arrivo in questo canale mamma mia volerina madonna, io porto gli occhiali pronti, applica la prossima moletta pronti molletta vai non pensare a dolere non fa male non fa male pronti, altra molletta altra molletta accetta si può aggiustare vado ah io posso fare più così è rimasto tutto quando sei pronto è rimasto sul corpo magari la mano io sto morendo per le dottie mamma mia cosa facciamo così? no no non cazzo diciamo che avete perso anche voi no io non vi ho niente io devo vincere il gatto ma non fammi lanciare i cristi così quotidiani ah vai vai no 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 io ma lo posso mettere che capiti non le fa cari non le fa cari basta che essi un corpo ok ok vabbè vabbè qualcuno è stato sono altre quattro applica quelle sui volsi dove voi sulle dita dove ti pare sul corpo sto meritando ok vai un'altra ciascuna adesso poi le ultime due queste mollette infame abbiamo finito facciamo una cosa che te cinque minuti vediamo chi le si ste con le doppie mollette si cinque minuti vediamo chi le si ste con le doppie mollette cinque minuti vediamo chi le si ste con le doppie mollette voglio dire l'ultima? l'ultima questa un'altra sul naso mamma mia è proprio che un'altra sul naso no no io sul naso non ci vado più ahhhh non fate cadere se no non vale perdi 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 mi manca tanto questo dito vabbè almeno qualora che si piaccia almeno male chi perde? pari? no no chi rinuncia? chi lascia? è un parigio? no si è un parigio no no non è un parigio ahhh i paveri ok io ho l'urso il soffracciglio il soffracciglio il soffracciglio no no va rimontato no ci vedete? che siete la prima? allora facciamo così togliamole iniziamole a togliere togli togli visto che non sappiamo come facciamo così però la soffracciglio ce le lasciamo no no sasso fatta forbici ahhhh cioè il naso deformato andami no c'è il segno no non so se ci vedete o che è successo oooh porca oooh ma che ho ma che ho ma che ho calma ma che ho ah il capelli pure fa male sono così per a me ma si il capelli fa male ma che sia male allora ciao per lo spirito è tanto ok allora non so se capire no oooh un bel sasso cartaforbici facciamo così però facciamo senza vedere ma rialzati a te ma ne stai mettendo io ah noi ora ci giriamo ma tu girati dietro di me facciamo sasso cartaforbici e tu vedi senza dire però chi ha fatto bene capito? ci giriamo facciamo sasso cartaforbici poi tu ci dici quando dobbiamo girarci e tu però vedi cosa abbiamo fatto però noi non vediamo e che cambia? eh no perchè quasi lei non sa io cosa ho fatto e va eh sasso ah cioè ti affettiti più vicino qua si deve dire la mano sasso cartaforbici ok giratevi eh nooo ho vitto ho vitto va bene ok vai eh no allora spero che questo video vi sia piaciuto non bello massacrante massacrante vi sia piaciuto mi raccomando non ci trovate a casa perchè vi uccidete 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 quindi lasciate like commentate condividete e iscrivetevi al prossimo video ciao 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 ciao